E' durato poco più di un'ora il question time di ieri pomeriggio nell'aula consigliare del Comune di Nocele Inferiore. Sei le interrogazioni all'ordine del giorno, quattro del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Spinelli, e due della consigliera comunale di opposizione, Tonia Lanzetta. Assente il sindaco della città, Maglio Torquato, aspro è stato il confronto tra la consigliera Lanzetta e gli assessori Piccolo e Pagliara sul tema dei rifiuti e della plastica e soprattutto sulla viabilità sul tratto della frazione cicalesi. Ma cosa è l'ambiente? Io ho proposto al Comune di Nocele attraverso un'interpellanza che poi arriverà in consiglio comunale di adottare la campagna del Ministero dell'Ambiente Plastic Free, ossia la graduale riduzione dell'uso della plastica nelle pubbliche amministrazioni via via e poi per un graduale disuso della plastica in tutti i settori. L'altra è sulla viabilità perché via Napoli e cicalesi comunque nonostante l'apertura del ponte di via Cuomo non vivono una situazione sicuramente leggera e piacevole rispetto alla capacità e alla viabilità cittadina. Ma la parte centrale del question time è stata incentrata sulla questione di Fosso Imperatore con il sindaco Torquato impegnato in prima persona, Nocele a Multiservizi e relative problematiche dei lavoratori dell'azienda partecipata e i chiarimenti sulla procedura di assunzione dei vigili urbani e gli altri argomenti all'ordine del giorno. Quanto riguarda le risposte che mi sono state date, in particolare la risposta su quella che è stata la mia interrogazione sulla Nocele a Multiservizi e quindi le possibili violazioni che erano state commesse dalla società riguardanti la normativa sul lavoro, non mi reputo soddisfatto perché in realtà ci sono alcuni punti che non sono stati chiariti, che avevo sollevato con la mia interrogazione, in particolare riguardanti i dispositivi di sicurezza perché in uno stato di agitazione programmato dai lavoratori sembrava che Costoro fossero privi di alcuni dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda invece l'interrogazione su Fosso Imperatore, neanche qui mi reputo soddisfatto perché c'è stata una relazione di alcuni tecnici redatta dal Comune di Nocele Inferiore che ha evidenziato tutta una serie di criticità, di anomalie, che la risposta a chi mi è arrivata dall'aggiunta tuttavia non è riuscita ad eliminare perché il quadro tracciato ovviamente non è proprio dei migliori quindi ci sarebbero delle anomalie che riguarderebbero sia i scarichi industriali, quindi le acque industriali in senso stretto, sia le acque piovane ma anche poi quelle che possono essere i reflui assimilati ai civili inoltre ci sarebbero anche alcune aziende che non avrebbero un'autorizzazione, un provvedimento di autorizzazione in corso di validità. Sicuramente lo scenario è preoccupante però io sono del parere che il Comune deve essere un organo supervisore, deve essere un organo che fa dei controlli, fa vigilanza perché in questo modo si può fare una buona impresa e contemporaneamente rispettare ovviamente l'ambiente visto che quella è una zona dove ci sono anche dei residenti, ci sono campagne che vengono coltivate quindi frutta, verdura, ortaggi che poi possono finire sulle tavole di tutti quanti noi, di tutti gli italiani nella piccola e nella grande distribuzione.